Francesco Totti rompe il silenzio, dopo mesi di gossip sulla fine del suo matrimonio con Ilari Blasi. Lo fa attraverso un'intervista a Fiume concessa al Corriere della Sera. Così ha battuto sul tempo l'ex moglie. Ci si aspettava che fosse lei a parlare per prima, magari in tv, con l'amica Silvia Toffanina Verissimo. Oppure a Belve, conversando con Francesca Fagnani. E, invece, l'ex capitano della Roma ha giocato d'anticipo, come quando calcava il terreno da gioco, ed è stato protagonista di una lunga confidenza con il quotidiano di Via Solferino. Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso, i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c'è un amore durato vent'anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così. Sono queste le prime parole ufficiali pubbliche pronunciate da Totti dopo il crack matrimoniale. Aveva promesso che non avrebbe parlato con la stampa ma è tornato sui suoi passi. Motivo? Ho letto troppe sciocchezze. Troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta. Un esempio? In particolare una. Che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Ecco uno dei nodi cruciali su cui sono stati scritti fiumi di inchiostro. I tradimenti. Come stanno davvero le cose? Questo punto voglio chiarirlo. Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. Dunque l'ex calciatore afferma chiaramente che la prima ad aver tradito è stata Ilari, confermando alcune indiscrezioni. Insomma, quello che da fuori pareva un matrimonio da fiaba, in realtà non lo era affatto. Le fiabe non esistono. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. C'è stato un punto di non ritorno che Totti data alla primavera del 2021. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Da quando? Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po' come morire. Giocavo in Serie A da quando ne avevo 16. E certe cose ti mancano. L'adrenalina. La fatica. L'ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio. Ho paura, statemi vicino. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo. Dunque, qual è il nocciolo del discorso? Presto detto, Totti rimprovera all'ex moglie di non aver compreso a fondo la crisi che ha vissuto dopo l'addio al calcio giocato. La situazione è andata peggiorando quando lui lasciò la Roma anche da dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica. Come dover abbandonare la propria casa? Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilari non ha capito l'importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021. Quella data è il giorno in cui il padre di Francesco venne a mancare. Una mazzata. Un altro punto di riferimento da sempre presente che improvvisamente non ci fu più. È morto papà mio, di covid, e io l'ho visto l'ultima volta il 26 agosto. Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Papà mio per me c'era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo. Francesco è il numero uno, diceva. Poi ho preso il covid più Rio, in forma violenta. 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c'erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Christian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c'è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L'ultimo anno è stato duro. Non c'era più dialogo. Non c'era più niente. L'ex capitano giallorosso non si nasconde dietro a un dito e ammette di aver commesso degli errori. Quando si rompe, si rompe in due. 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel weekend organizzavo con gli amici. C'era anche Hilary. Ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni.